Con questo tutorial affrontiamo le disequazioni di secondo grado fratte. Partiamo da questo esempio. Allora, devo andare a fare lo studio del segno di questa disequazione e si va a porre il numeratore maggiore o uguale a 0 e il denominatore maggiore di 0. Si pone sempre maggiore anche se qui c'è scritto minore. Ricordo che qui viene messo maggiore o uguale e qui solo maggiore perché il denominatore non potrà mai essere uguale a 0. Quindi, se qui c'è scritto minore o maggiore, si porrà sempre numeratore e denominatore maggiore di 0. Per quanto riguarda il numeratore abbiamo x quadro e quindi vado a scrivere x quadro maggiore uguale a 0. Il denominatore, invece, è x alla seconda meno 1 maggiore di 0. A questo punto devo risolvere queste due disequazioni di secondo grado ed essendo disequazioni di secondo grado devo prima passare all'equazione associata per trovare gli zeri dell'equazione. E quindi vado a scrivere x alla seconda uguale a 0, la risolvo ed ottengo x uguale a 0. E quindi ottengo una sola soluzione. Per quanto riguarda la seconda, x alla seconda meno 1 uguale a 0. Passo, cioè, all'equazione associata e adesso la risolvo. x alla seconda uguale a 1 e x uguale più o meno 1 facendo la radice quadrata di ambe i membri. Ora devo fare lo studio del segno delle due disequazioni. Parto dalla prima. Allora, ho una sola soluzione quando x è uguale a 0. Ricordo che qui il delta è uguale a 0 perché ho ottenuto una sola soluzione e lo studio del segno associato è sempre positivo e nel valore x uguale a 0 vale 0. Per quanto riguarda la seconda, ho meno 1 e 1 che indico in figura. Meno 1 e 1. Quindi il delta è maggiore di 0 perché ho ottenuto due soluzioni e lo studio del segno associato è prima di meno 1 positivo, dopo di 1 positivo e tra meno 1 e 1 risulta negativo. Ora vado a calcolare il segno dell'intera disequazione. Quindi qui è più, qui è più, più per più fa più e allora vado a scrivere più. Poi, qui è più, qui è meno, quindi più per meno fa meno e scrivo meno. Poi più per meno fa meno ed infine ho più per più che fa più. A questo punto ho terminato lo studio del segno di questa disequazione fratta. Adesso passo a vedere qual era la domanda. Cioè mi si chiedeva quando questa quantità è minore o uguale a 0. Quindi la mia risposta, cioè la soluzione di questa disequazione, sono gli intervalli dove vedo il minore o l'uguale a 0. Allora il minore di 0 lo vedo qui, lo vedo qui e l'uguale a 0 lo vedo qui. E quindi l'intervallo che è soluzione di questa disequazione è l'intervallo meno 1, 1. E allora vado a scrivere che la soluzione è x compreso tra meno 1 e 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora è una disequazione fratta, vado a porre il numeratore maggiore o uguale a 0 e il denominatore solo maggiore, e allora vado a scrivere x alla seconda meno 1 maggiore o uguale a 0 e x alla seconda meno 2x più 8 maggiore di 0. Ricordo che si pone sempre maggiore anche se c'è scritto qui minore. Il maggiore uguale va sempre e soltanto al numeratore. Allora, essendo questa una disequazione di secondo grado, devo passare all'equazione associata, cioè x quadro meno 1 uguale a 0 e una volta risolta ottengo x uguale più o meno 1. Ora risolvo la seconda disequazione, quindi passo all'equazione associata, x alla seconda meno 2x più 8 uguale a 0 e questa la devo risolvere utilizzando la formula risolutiva. x 1, 2 uguale meno b, cioè 2, più o meno b alla seconda che è 4 meno 32 fratto 2. Mi rendo conto che qui la quantità sotto la radice è minore di 0 quindi questa equazione risulta impossibile in quanto il delta è minore di 0. A questo punto vado a fare lo studio del segno. Prima il numeratore e ottengo due valori che sono meno 1 e 1. Avendo ottenuto due soluzioni il delta è maggiore di 0 e lo studio del segno associato è qui più, qui più e in mezzo meno. Siccome che il numeratore deve essere maggiore o uguale a 0 metto in evidenza che a meno 1 vale 0 e a 1 vale 0. Per quanto riguarda il denominatore avevamo ottenuto qui delta minore di 0 cioè l'equazione è impossibile. e allora il segno associato è una linea sempre positiva cioè è impossibile che la parabola andava a toccare l'asse delle x e quindi si trovava sempre al di sopra dell'asse delle x. Ora vado a fare lo studio del segno quindi qui è più qui è più più per più fa più poi ho meno e più e quindi fa meno poi ho più e più e quindi ottengo più. A questo punto ho terminato lo studio del segno della diseguazione e vado a vedere qual è la domanda mi si chiede quando è che è minore o uguale a 0 il minore o uguale a 0 lo vedo nell'intervallo meno 1 1 con meno 1 e 1 compresi perché in questi valori la diseguazione vale proprio 0 allora la risposta è x compreso o uguale tra meno 1 e 1 vediamo questi altri esempi allora parto da questo e vado a fare numeratore e denominatore maggiore di 0 quindi vado a studiare il segno della diseguazione parto dal numeratore e vado a scrivere x alla seconda più 2x meno 8 maggiore di 0 passo all'equazione associata e adesso devo risolvere questa equazione x 1 2 uguale meno b cioè meno 2 più o meno la radice quadrata di b alla seconda e quindi scrivo 4 poi meno 4c quindi meno 4 per meno 8 e quindi più 32 tutto quanto fratto 2 ed ottengo meno 2 più o meno 4 più 32 fa 36 e la radice quadrata è 6 fratto 2 ottengo in questa maniera due soluzioni meno 2 meno 6 diviso 2 quindi ottengo meno 4 e poi meno 2 più 6 che fa 4 diviso 2 è 2 a questo punto vado a risolvere il denominatore e quindi vado a porre x alla seconda più x meno 6 maggiore di 0 x alla seconda più x meno 6 uguale a 0 e risolvo questa equazione e quindi vado a scrivere x 1 uguale meno b più o meno 1 meno 6 per meno 4 fa più 24 diviso 2 1 più 24 fa 25 e quindi a questo punto questa equazione avrà due soluzioni che sono meno 3 e 2 ora devo andare a fare lo studio del segno dell'intera disequazione e quindi vado a scrivere per il numeratore ho meno 4 e 2 e individuo meno 4 e il 2 siccome che delta è maggiore di 0 lo studio del segno associato è qui più qui più e in mezzo meno quindi individuo il meno 3 devo andare a scrivere anche il 2 ma vedo che è già scritto quindi non lo vado a riscrivere e vado a fare lo studio del segno delta è maggiore di 0 quindi so che negli intervalli esterni è positivo e al centro è negativo a questo punto faccio il prodotto dei segni quindi più per più fa più poi meno più ed infine più una volta che ho terminato lo studio del segno vado a vedere qual era la domanda di questo esercizio cioè mi si chiede quando è che è maggiore di 0 il maggiore di 0 lo vedo in questo intervallo in questo intervallo e in questo intervallo e allora vuol dire che la soluzione sarà x minore di meno 4 e lo vado a scrivere e poi devo stare attento non posso scrivere x maggiore di meno 3 perché qui è più e qui è più perché nel punto 2 non è né positiva né negativa perché qui la diseguazione non è definita in quanto 2 è vero che fa parte del numeratore ma fa parte anche del denominatore e allora per sicurezza conviene mettere anche una x per ricordare che in 2 la diseguazione non è definita e non è definita nemmeno nel valore meno 3 allora per scrivere la soluzione devo dire x maggiore di meno 3 e x diverso da 2 un altro modo di scrivere questa soluzione poteva essere andare a scrivere x compreso tra meno 3 e 2 e poi x maggiore di 2 vediamo quest'altro esercizio allora qui la prima cosa che bisogna fare è sviluppare questo quadrato di binomio e allora vado a scrivere x alla seconda più 2x più 1 meno 4x fratto e ricopio il denominatore più 12 maggiore di 0 a questo punto ottengo x alla seconda meno 2x più 1 fratto x alla seconda meno 6x più 12 maggiore di 0 ora una volta che ho ottenuto una disequazione scritta in forma normale vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0 e quindi vado a scrivere x alla seconda meno 2x più 1 maggiore di 0 passa all'equazione associata x alla seconda meno 2x più 1 uguale a 0 risolvo questa equazione e mi rendo conto che ottengo una sola soluzione che è x uguale a 1 e quindi vuol dire che il delta è uguale a 0 ora faccio la stessa cosa per il denominatore e quindi vado a scrivere x alla seconda meno 6x più 12 maggiore di 0 passa all'equazione associata e poi la vado a risolvere allora vado a scrivere x 1 uguale a 6 più o meno 36 meno 48 fratto 2 e quindi mi rendo conto che il delta è minore di 0 e quindi questa equazione risulta impossibile a questo punto devo andare a fare lo studio del segno di questa disequazione allora so che per quanto riguarda il numeratore ottengo una sola soluzione per x uguale a 1 e quando ottengo una sola soluzione so che prima di 1 e dopo di 1 è sempre positivo e a 1 vale 0 per quanto riguarda il denominatore ho ottenuto delta minore di 0 quindi significava che la parabola non toccava l'asse delle x e quindi era sempre positiva e quindi lo studio del segno associato è sempre più a questo punto faccio lo studio del segno che qui è più qui è più e nel valore 1 vale 0 e poi vado a vedere la domanda mi si chiede quando è che è maggiore di 0 allora il maggiore di 0 lo vedo per i valori che sono prima di 1 e dopo di 1 e allora devo andare a scrivere che la soluzione è x minore di 1 vel x maggiore di 1 avrei potuto anche scrivere la soluzione in un'altra maniera dicendo tutti i valori reali tranne il valore 1 vediamo questi altri esempi allora parto da questo la prima cosa che faccio è portare 5 fratto 1 meno x a primo membro e poi il minimo comune multiplo e quindi scrivo x più 1 meno 5 fratto 1 meno x maggiore uguale a 0 poi porto questo segno meno a denominatore in questa maniera vado a riscrivere x più 1 più 5 fratto x meno 1 maggiore uguale a 0 e adesso vado a fare il minimo comune multiplo quindi il minimo comune multiplo è x meno 1 e poi maggiore uguale a 0 e quindi devo fare x più 1 per x meno 1 ed ottengo x alla seconda meno 1 e poi ho più 5 e quindi x alla seconda più 4 fratto x meno 1 maggiore uguale a 0 a questo punto vado a fare lo studio del segno di questa disequazione vado a porre numeratore maggiore uguale a 0 e denominatore solo maggiore di 0 e quindi scrivo x alla seconda più 4 maggiore uguale a 0 e x meno 1 maggiore di 0 il numeratore è rappresentato da una disequazione di secondo grado quindi devo passare all'equazione associata x alla seconda più 4 uguale a 0 e se vado a risolverla mi rendo conto che questa equazione risulta impossibile quindi il delta è minore di 0 per il denominatore invece vado a scrivere x maggiore di 1 è una disequazione di primo grado a questo punto vado a fare lo studio del segno per quanto riguarda il numeratore siccome che qui l'equazione era impossibile allora voleva dire che la parabola non toccava mai l'asse delle x e quando ho delta minore di 0 lo studio del segno è sempre più per quanto riguarda il denominatore ho x maggiore di 1 quindi per valori maggiori di 1 ho più e prima invece ho meno vado a fare lo studio del segno quindi ho più per meno che fa meno e poi più per più che fa più ricordo che nel valore 1 questa funzione non è definita in quanto 1 risulta denominatore infatti se qui vado a mettere 1 ottengo 1 meno 1 0 e non posso dividere per 0 lo posso indicare con una x sul valore ora vado a vedere qual è la domanda mi si chiedeva quando è che questa disequazione era maggiore o uguale a 0 e il maggiore o uguale a 0 lo vedo in questo intervallo per i valori x che sono maggiori di 1 vediamo quest'altro esempio allora prendo questa quantità la porta a primo membro e poi faccio il minimo comune multiplo e quindi vado a scrivere 2x più 1 meno x meno 1 fratto 2x meno 1 minore uguale a 0 a questo punto vado a fare il minimo comune multiplo che è 2x meno 1 e allora vuol dire che devo moltiplicare questa quantità per questa quantità ed ottengo 4x alla seconda meno 1 e poi vado a scrivere meno x meno 1 e quindi vado a scrivere meno x più 1 minore uguale a 0 semplifico meno 1 con 1 ed ottengo 4x quadro meno x fratto 2x meno 1 minore uguale a 0 ora vado a fare lo studio del segno di questa disequazione e quindi vado a scrivere 4x quadro meno x maggiore uguale a 0 essendo una disequazione di secondo grado passa all'equazione associata 4x quadro meno x uguale a 0 metto in evidenza una x e quindi scrivo 4x meno 1 uguale a 0 e poi x uguale a 0 e 4x meno 1 uguale a 0 e quindi ottengo x uguale a 0 e x uguale a un quarto per quanto riguarda il denominatore vado a scrivere 2x meno 1 maggiore di 0 ed ottengo 2x maggiore di 1 e quindi x maggiore di un mezzo ora vado a rappresentare lo studio del segno allora per quanto riguarda il numeratore ho 0 e un quarto avendo ottenuto due soluzioni so che prima di 0 è positivo dopo di un quarto ho la positività e tra 0 e un quarto ho meno siccome che qui avevo maggiore o uguale a 0 vado a ricordare che a 0 e a un quarto vale 0 per quanto riguarda il denominatore invece ho x maggiore di un mezzo quindi individuo un mezzo e so che dopo di un mezzo è positiva prima di un mezzo è negativa ora vado a fare il prodotto dei segni quindi qui è più qui è meno ed ottengo meno poi ho meno per meno che fa più più per meno meno e più per più che fa più vado a vedere adesso qual è la domanda mi si chiede quando è che è minore o uguale a 0 quindi la mia risposta sono gli intervalli dove vedo il minore o l'uguale a 0 e quindi è qui e qui con 0 e un quarto inclusi allora devo andare a scrivere come risposta x minore o uguale a 0 vel x minore di un mezzo solo minore perché a un mezzo non c'è nessun pallino e poi meno un quarto con il segno di uguale cioè x compreso o uguale tra meno un quarto e un mezzo vediamo questi altri esempi allora prendo questa quantità e la porto a sinistra e poi vado a fare il minimo comune multiplo e quindi scrivo x meno 34 meno 32 fratto 1 meno x maggiore di 0 siccome che qui preferisco avere x meno 1 prendo questo meno e lo porto a denominatore in questo modo vado a scrivere x meno 34 più 32 fratto x meno 1 maggiore di 0 a questo punto posso fare il minimo comune multiplo che è x meno 1 e devo andare a scrivere x meno 34 per x meno 1 e poi più 32 maggiore di 0 ora devo fare questi calcoli a numeratore ed ottengo x alla seconda meno x meno 34x più 34 ed infine più 32 fratto x meno 1 maggiore di 0 vado a riscrivere questa disequazione in forma normale e quindi ottengo x alla seconda meno 35x più 66 fratto x meno 1 maggiore di 0 ora vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0 per quanto riguarda il numeratore ho una disequazione di secondo grado e quindi devo andare a scrivere x alla seconda meno 35x più 66 maggiore di 0 x alla seconda meno 35x più 66 uguale a 0 cioè passo all'equazione associata che devo risolvere e una volta risolta questa equazione ottengo due soluzioni x1 uguale a 2 e x2 uguale a 33 per quanto riguarda il denominatore è una disequazione di primo grado e quindi vado a scrivere soltanto x meno 1 maggiore di 0 cioè x maggiore di 1 ora vado a fare lo studio del segno per quanto riguarda il numeratore ho due valori 2 e 33 che indico 2 e 33 e siccome che il delta è maggiore di 0 so che prima di 2 e dopo di 33 è positiva e in mezzo è negativa e poi ho x maggiore di 1 individuo l'1 quindi qui è maggiore e prima è minore vado a fare lo studio del segno quindi più per meno fa meno poi ho più meno ed ho più qui la domanda della disequazione è quando è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo allora la risposta sarà x compreso tra 1 e 2 e poi x maggiore di 33 vediamo questo altro esempio allora prendo questa x la porto al primo membro e poi vado a fare il minimo comune multiplo e quindi vado a scrivere x fratto 3x meno 5 meno x minore di 0 ora vado a fare il minimo comune multiplo che è 3x meno 5 e quindi scrivo x meno quindi devo moltiplicare questa x per 3x meno 5 ed ottengo meno 3 x quadro più 5x minore di 0 e quindi meno 3 x quadro più 6x fratto 3x meno 5 minore di 0 ora qui posso mettere a numeratore in evidenza un meno 3 e quindi vado a scrivere meno 3 che moltiplica x alla seconda meno meno 2x fratto 3x meno 5 minore di 0 posso dividere ambo i membri per meno 3 in modo tale che posso semplificare meno 3 ma siccome che meno 3 è una quantità negativa mi devo ricordare poi di cambiare il verso alla disequazione quindi da minore devo passare a maggiore ossia devo andare a scrivere x alla seconda meno 2x fratto 3x meno 5 maggiore di 0 in questa maniera ho semplificato il numero di fronte a x quadro meno 2x ma siccome che questo numero era negativo da minore ho dovuto cambiare verso e quindi passare a maggiore ora vado a fare lo studio del segno quindi vado a porre numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0 e quindi x alla seconda meno 2x maggiore di 0 x alla seconda meno 2x uguale a 0 perché era una disequazione di secondo grado ora metto in evidenza una x ed ottengo x uguale a 0 e x uguale a 2 ottengo quindi due soluzioni per quanto riguarda il denominatore ho 3x meno 5 maggiore di 0 3x maggiore di 5 dividendo ambo i membri per 3 ottengo x maggiore di 5 terzi ora vado a fare lo studio del segno per quanto riguarda il numeratore ottengo due soluzioni che sono 0 e 2 siccome che il delta è positivo so che lo studio del segno associato è prima di 0 più dopo di 2 è più e in mezzo è meno poi vado a rappresentare x maggiore di 5 terzi 5 terzi è minore di 2 e quindi lo scrivo qui quindi più e meno e adesso vado a fare lo studio del segno quindi più per meno che fa meno poi ho più meno e più ora devo andare a vedere la domanda che mi veniva fatta la domanda è questa devo guardare questo segno cioè il segno prima che ho separato numeratore e denominatore quindi mi si chiede quando è che è maggiore di 0 il maggiore di 0 lo vedo qui e qui ossia per i valori che sono compresi tra 0 e 5 terzi e quindi vado a scrivere x compreso tra 0 e 5 terzi e poi per i valori maggiori di 2 quindi x maggiore di 2 vediamo questi ultimi due esempi allora parto da questo devo prendere il 3 portarlo a sinistra e fare il minimo comune multiplo ed ottengo x più 4 per x meno 8 allora x meno 4 che moltiplica x meno 8 poi meno x più 8 che moltiplica x più 4 ed infine meno 3 che moltiplica x più 4 per x meno 8 maggiore uguale a 0 facendo i calcoli qui a numeratore si ottiene meno x alla seconda più 4x meno 32 fratto x più 4 per x meno 8 maggiore o uguale a 0 adesso moltiplico ambo i membri per meno 1 in questa maniera vado a scrivere x alla seconda più 4x meno 32 fratto x più 4 per x meno 8 da maggiore o uguale passo a minore o uguale ora vado a risolvere il numeratore e il denominatore vado a porre numeratore maggiore o uguale a 0 denominatore solo maggiore e quindi vado a scrivere x alla seconda più 4x meno 32 maggiore o uguale a 0 passa all'equazione associata e adesso devo risolvere questa equazione risolvendo questa equazione si ottiene x 1 2 uguale meno 4 più o meno 16 meno 32 per meno 4 fa 128 tutto quanto fratto 2 e si ottengono come soluzioni 4 e meno 8 quindi ottengo due soluzioni per quanto riguarda il denominatore vado a scrivere x più 4 per x meno 8 maggiore di 0 essendo una diseguazione prodotto posso scrivere x più 4 maggiore di 0 e x meno 8 maggiore di 0 e quindi ottengo x maggiore di meno 4 e x maggiore di 8 a questo punto vado a fare lo studio del segno complessivo e allora per quanto riguarda il numeratore ho 4 e meno 8 che indico in figura so che qui è più meno e più poi per il denominatore vado a scrivere x maggiore di meno 4 quindi vado a individuare meno 4 e poi x maggiore di 8 osservo che per quanto riguarda il numeratore siccome che avevo un maggiore o uguale a 0 a 4 e a meno 8 indico che lì vale 0 e quindi metto un cerchietto a 4 e un cerchietto a meno 8 ora vado a fare lo studio del segno ed ho più per meno per meno e quindi ottengo più poi meno per meno per meno ho meno più meno e più ora vado a vedere qual è la domanda la domanda è questa prima di aver separato il numeratore dal denominatore quindi quando è che ho minore o uguale a 0 il minore o uguale a 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo con meno 8 e 4 inclusi allora la risposta sarà x compreso tra meno 8 e meno 4 e poi x compreso tra 8 e 4 qui e qui ho messo meno o uguale perché meno 8 e 4 sono inclusi nella soluzione vediamo quest'ultimo caso prendo 2 terzi e lo porto a sinistra e poi faccio il minimo comune multiplo ed ottengo x fratto x quadro meno 1 meno 2 terzi maggiore di 0 il minimo comune multiplo è 3 che moltiplica x quadro meno 1 e quindi vado a moltiplicare x per 3 e meno 2 per x quadro meno 1 ed ottengo 3x meno 2x quadro più 2 maggiore di 0 la vado a riscrivere in maniera ordinata meno 2x quadro più 3x più 2 fratto 3 che moltiplica x quadro meno 1 maggiore di 0 preferisco avere x quadro positiva e quindi moltiplico ambe membri per meno 1 e vado a riscrivere 2x quadro meno 3x meno 2 fratto 3 che moltiplica x quadro meno 1 minore di 0 a questo punto vado a fare lo studio del segno e quindi vado a scrivere 2x quadro meno 3x meno 2 maggiore di 0 e quindi 2x quadro meno 3x meno 2 uguale a 0 risolvendo questa equazione di secondo grado si ottengono due soluzioni x1 uguale a 2 ed x2 uguale a meno un mezzo per quanto riguarda il denominatore vado a scrivere 3 che moltiplica x quadro meno 1 maggiore di 0 posso dividere ambo i membri per 3 in questa maniera vado a semplificare questo 3 e poi passo all'equazione associata e vado a scrivere x quadro meno 1 uguale a 0 x uguale più o meno 1 ora faccio lo studio del segno per quanto riguarda il numeratore ho meno un mezzo e 2 quindi individuo meno un mezzo e 2 quindi qui è più meno e più per quanto riguarda il denominatore ho meno 1 e 1 e quindi vado a individuare il valore meno 1 e il valore 1 e quindi più meno e più e poi faccio lo studio del segno più per più fa più poi meno più meno ed infine più ora vado a vedere la domanda la domanda è questa cioè è la disequazione prima che ho separato numeratore da denominatore quindi mi si chiede quando questa quantità è minore di 0 il minore di 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo allora la risposta sarà x compreso tra meno 1 e meno un mezzo e poi x compreso tra 1 e 2 e con questo esempio termino questo tutorial sulle disequazioni di secondo grado fratte e quindi è un minore un minore che mi può essere un minore per un minore un minore e un minore e un minore e un minore Grazie a tutti